Ciao a tutti, eccomi con un nuovo video dedicato alle Barbie. Barbie Video Game Hero! questa Barbie fa parte del film Barbie nel mondo dei videogames qui possiamo vedere anche alcune scene del film questo è il DVD adesso la tolgo dalla scatola la vediamo nei dettagli ed eccola qui con i suoi bellissimi capelli rosa e viola mamma mia che capelli, mi piacciono tantissimo sono metà rosa e metà viola, bellissimi con la coroncina occhi viola e rosa come i suoi capelli rossetto rosa e una bellissima stella fucsia ha un visino davvero carino e simpatico allora il corpo, il corpino è di plastica quindi è colorato non ha un vestito che si può togliere è tutto in plastica e qui porta una stellina poi abbiamo la gonna di plastica e tessuto dietro è tutto tessuto colorato e anche sotto è tutta di plastica è tutto un pezzo non è come la classica Barbie che può muovere le gambe no è statica le gambe sono statiche è tutto un pezzo ma è fatto apposta perché la Barbie si illumina e suona premendo questo pulsante evidentemente fa un po' come nel film porta le ginocchiere e i bellissimi pattini bellissimi ha suonato da sola non l'ho premuta bellissimi i suoi pattini con le alette che forte molto molto bella è particolare non è la classica Barbie sembra uscita da un manga ecco l'unica cosa è che la Barbie ha questo pezzo in plastica è tutta così è tutta di plastica ecco non ha un vestito che si può togliere le gambe che si possono muovere no però la caratteristica in effetti è questa di questa Barbie porta anche il casco che è di gomma morbidissimo turchese e porta su una coroncina con la stella due stelle precisamente però io no io la metto perché è più bella così con la sua coroncina molto bella ha davvero dei colori stupendi che bella che è va bene suona da solo ok io vi saluto e al prossimo video baci baci